Oggi lo sciopero nazionale che coinvolge anche quello che è un settore che noi chiamiamo in maniera un po' generale che è quello del welfare ma è l'assistenza poi alle persone in particolar modo quelle più fragili. Do il benvenuto a Gianluca Mingozzi che è il responsabile welfare di Conf Cooperative Emilia Romagna. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ecco è un settore che ce lo dimostra anche questa mobilitazione odierna sta vivendo una fase complicata. Sì i bilanci sia delle amministrazioni pubbliche che si occupano di sanità che anche dei privati io rappresento qui le cooperative sociali piangono sono in rosso e il motivo i motivi sono molteplici abbiamo attraversato due anni terribili a causa della pandemia ora l'aumento dei costi dell'energia e di tutte le forniture mettono in ginocchio e le aziende che gestiscono e i servizi stessi e questo chiaramente a danno anche dei cittadini. Ecco lo vediamo nelle immagini che la stanno accompagnando. Ci sono tante persone che lavorano quotidianamente penso alle case di riposo ma non solo. è un settore che ha tanto bisogno di personale, è un personale che naturalmente deve essere contrattualizzato c'è anche il tema del rinnovo contrattuale. Sì noi siamo in negoziato per rinnovare il contratto, speriamo di chiudere entro brevissimo al massimo due mesi. L'obiettivo è quello appunto di provvedere a un aumento nel buste paga delle persone che solo in Emilia Romagna le cooperative sociali hanno come dipendenti e come lavoratori circa 60.000 persone, quasi tutti a tempo indeterminato. Quindi anche una bella responsabilità per i dirigenti delle cooperative perché si tratta di 60.000 famiglie, non solo di 60.000 lavoratori. Andiamo al rinnovo di questo contratto sicuramente con l'intenzione appunto di aumentare le buste paghe in maniera congrua per far fronte alla perdita di potere d'acquisto che abbiamo subito tutti in questo periodo. Ecco Mingozzi ricordiamo anche quanto è importante questo settore se pensiamo alla composizione della nostra società adesso che demograficamente è una società a giocoforza sempre più anziana. Sì, è noto a tutti che appunto la natalità, la chiamiamo inverno demografico, la natalità è impicchiata e dall'altra parte la popolazione italiana appunto sta invecchiando. È un buon segno da un lato perché dopo il Giappone noi siamo lo stato nel mondo dove la speranza di vita è maggiore dall'altra però aumentano le spese, è intuibile. I costi aumentano e invece le risorse pubbliche perché in gran parte questo settore è sostenuto da risorse pubbliche non aumentano in maniera proporzionale e quindi adeguata. Il settore sia quello assistenziale che quello sanitario è attualmente insostenibile. E allora con queste parole ringraziamo Gianluca Mingozzi responsabile welfare di Conf Cooperative Emilia Romagna per essere stato con noi. Grazie. Io ringrazio voi tutti. Buongiorno.